Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo un nuovo filone, sempre di genere bellico, parlando di grande guerra. Sembrerà strano che in 25 video che ho girato fino adesso non ho mai parlato della prima guerra mondiale, era il caso di farlo, non sapevo onestamente con quale film iniziare, alla fine un suggerimento di alcuni utenti, di alcuni spettatori dei miei video, mi ha portato a scegliere il film Una lunga domenica di passioni. Il film è del 2003 per la regia di Jean-Pierre Genet. Genet è un attore, è un regista francese che due anni prima aveva girato un film meraviglioso, Il favoloso mondo di Amélie. Nel favoloso mondo di Amélie Genet aveva illustrato in maniera magistrale Parigi, i più attenti iscritti al canale avranno capito come io adoro Parigi e la ricostruzione di Parigi, la messa in scena di Parigi nel film di Amélie rappresenta qualcosa di unico. Si è riusciti attraverso una descrizione poetica, anche filtrata da effetti speciali, non invasivi che mostrano alcuni momenti, alcuni luoghi, particolarmente pittoreschi. Il film Il famoso mondo di Amélie è essenzialmente girato nella zona di Montmartre. Ebbene, questi, perché vi parlo di Amélie? Vi parlo di Amélie perché Genet trasporta in questo nuovo film tutta la magicità del suo tipo di cinema un cinema legato molto al simbolismo alla ricerca del dettaglio, del particolare e un dettaglio, un particolare che possa esprimere emozioni che possa coinvolgere lo spettatore attraverso tutti i sensi. La fotografia di entrambi i film è molto simile che appunto varia nei colori, dal seppia ai colori più accesi. In questo film, essendo un film d'epoca, è ambientato nel 1920 esattamente 100 anni fa con dei riferimenti ovviamente alla Grande Guerra. La storia si incentra sulla figura di Mathilde una ragazza di 20 anni, nata nel 1900 come si dice nel film è facile identificare sempre la sua età è nata nel 1900, quindi nel 20 a 20 anni e lei era fidanzata con un soldato un ragazzo che tre anni prima, quattro anni prima era partito per fare appunto il soldato, per andare in guerra e nel 1917, all'inizio del 1917 era stato condannato perché era stato ritenuto, effettivamente lo era punibile per autolesionismo l'autolesionismo era una forma di tentativo di scampare alla prosecuzione della guerra molto diffusa un po' in tutti i paesi e la Francia non fu meno severa di altri nella repressione di questo tipo di attività considerata lesiva del prestigio del paese il prestigio dell'onore del soldato del coraggio del soldato e quindi tutti coloro che venivano scoperti farsi delle mutilazioni, delle ferite volontarie venivano puniti in un certo modo in genere c'era la fucilazione in questo film invece, sin da subito le prime scene ci viene presentato questo gruppo di cinque condannati attraverso il lungo reticolo della trincea che prende spunto essenzialmente da orizzonti di gloria di Kubrick questo film vedremo come ha molte citazioni ha molte citazioni del cinema ma anche però molte citazioni della cultura francese in genere troviamo citazioni di diversi di Baudelaire la citazione di un riferimento a Giovanna d'Arco ecco come è una pellicola che è molto ricca è molto intrisa di simbolismo simbolismo che dicevo lo troviamo appunto anche nella citazione e nell'autocitazione perché il rapporto con Il favoloso mondo di Amélie è strettissimo una parte del cast è comune ai due film oltre ovviamente alla protagonista un particolare subito ve lo dico il film è essenzialmente francese a il cast all'aspetto tecnico essenzialmente francese ma avendo ottenuto una cospicua parte di finanziamenti costò circa 50 milioni di euro nel 2003 avendo ricevuto una cospicua come dicevo una cospicua parte del finanziamento da parte della Warner Bros il film fu co-prodotto franco-americano ma questo elemento portò la cinematografia nazionale francese a non ritenerlo prettamente francese tant'è che ebbe tutta una serie di ostacoli per quanto riguarda il riconoscimento e anche la subvenzione statale per il cinema nazionale però dobbiamo dire anche un'altra cosa che il film è essenzialmente polemico è un film essenzialmente antimilitarista un film essenzialmente critico quasi come Orizzonti di Gloria Orizzonti di Gloria che è stato per circa 20 anni bandito in Francia perché osava mettere in dubbio la grandezza della Grande Guerra la grandezza dell'esercito francese una sorta di oltraggio nazionale ecco in questo film vi sono molti elementi comuni anche con Orizzonti di Gloria e questo si sviluppa si sviluppa in maniera molto concitata il ritmo è essenzialmente lento del film ma all'interno di questa lentezza del film troviamo una serie di colpi di scena perché? perché la storia si basa sulla ricerca di Matilde come dicevo della sorte del suo fidanzato che è di uno di questi cinque condannati a morte che invece di essere i condannati a morte alla fucilazione messi al muro vengono lasciati nella terra di nessuno tra la trincea francese e quella tedesca lasciandoli un po' al loro destino dopo averli lasciati per una serie di circostanze iniziò la battaglia anche con un'attività aerea e questo comprometterà ovviamente ancora di più la possibilità che questi cinque sopravvivono a una serie di vicissitudini ma Matilde tre anni dopo ancora crede che il fidanzato possa essere vivo Fiordaliso si è chiamato Fiordaliso questo giovane e nonostante nonostante tutti gli indizi possano portare a ritenere certa la morte di Fiordaliso Matilde che tra l'altro è anche claudicante perché ha avuto la poliomilite che vive in Bretagna con gli zile che è orfana nonostante sia agiata economicamente ma ha delle difficoltà oggettive ma lei tenacemente vuole ricercare il suo Fiordaliso perché lei è convinta attraverso anche una sorta di rito di rito di speranza si appiglia a qualsiasi cosa il fato le dice che Fiordaliso è sopravvissuto io non vi svelerò se come quando lei riuscirà a trovare Fiordaliso non ve lo dico però vi posso dire che in tutta questa storia questa tenacia questa caparbietà nel dover andare a ricercare nel dover trovare degli elementi attraverso anche una serie di testimonianze perché poi alla fine la ricerca è veramente affannosa nel tentativo di affidarsi alle testimonianze scritte alle testimonianze orali a circostanze quasi investigative vi saranno dei compagni di viaggio che la accompagneranno nel tentativo di recuperare degli elementi preziosi per la ricostruzione di questo grande mosaico di questo grande puzzle che è stato ovviamente rotto in questi non solo questi tre anni che passano dal 17 al 20 ma anche attraverso la guerra Matilde si farà accompagnare si farà portare lei si andrà a spalla perché ha difficoltà a camminare attraverso quelli che erano i campi di battaglia che ovviamente non sono più sono diventati dei campi coltivati ecco tornare lì ritornare lì nei luoghi in cui c'è stata la battaglia in cui appunto la meglio gioventù di Francia ha perso la vita ecco ci mostra veramente la capabilità e il desiderio di riuscire a scoprire la verità e il film è essenzialmente questo il film dicevo è stato girato e prodotto con un investimento enorme non solo per un film in genere un film francese diciamo un film di questo tipo non vengono prodotti e posso onestamente dire che è uno dei migliori film sulla prima guerra mondiale che possa essere stato fatto questo non lo dico soltanto io mi è capitato appunto di vederlo in questo volume in questo volume di analisi sui film della grande guerra un film questo libro è del si ferma al 2008 quindi affronta dalla prima guerra mondiale fino al 2008 anche i film qua è via la guerra stessa ebbene dice essenzialmente che è uno dei migliori film è uno dei migliori film se non il migliore anche per tutta una serie di caratterizzazioni la battaglia che viene raccontata ma non solo la battaglia anche la preparazione anche tutta l'organizzazione stessa che vi è dietro la battaglia l'ignavia da parte di eventuali ufficiali del generale che nonostante abbia ricevuto dal ministro Poincaré la grazia per questi cinque non la inoltre e quindi abbiamo altri riferimenti altri passaggi importanti con il cinema di Kubrick ma non solo con il cinema potremmo fare un azzardo con Uomini contro di Francesco Rosi che potremmo in un secondo in un'altra occasione parlare tra luci e ombre ecco quindi come un grande affresco dove ogni elemento figurativo ogni elemento morale ogni elemento di riflessione sul senso della vita della morte e della guerra stessa e questo è una cosa molto importante perché in Francia la prima guerra mondiale è qualcosa di mitologico di intoccabile per la cultura francese quindi un film del genere è molto importante nonostante le possibili dicevo le possibili ostruzioni un film che non ha avuto tutto quel risalto che avrebbe meritato e nonostante i grandi meriti non solo di sforzo produttivo ma anche di punto di capacità espressiva mi richiamavo al film al favoloso mondo di Amelie via una ricostruzione di Parigi meravigliosa di cento anni fa dove la ricostruzione per esempio della stazione del Ché d'Orsay dove attualmente c'è il museo degli impressionisti ma non solo appunto anche i viaggi stessi che Mathilde fa dalla Bretagna fino a Parigi o in altre zone l'allestimento di stazioni ferroviarie l'allestimento c'è un ospedale costruito all'interno di un hangar di un dirigibile quindi vi è proprio un elemento di grande cura descrittiva in cui effettivamente sembra di stare intrinciata sembra veramente di stare nella terra di nessuno sembra veramente di stare accanto a dei cadaveri a dei mutilati a tutto un'ambientazione veramente 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 realistica quindi io questo è un video che faccio con grande piacere perché è un piacere parlare di questo film è un film che dovrebbe essere visto ma non solo perché è una grande storia d'amore una grande storia d'amore appunto di una donna che nonostante tutti gli dicono ma è morto lei ci crede fino in fondo poi indipendentemente se lo trovo o meno è un atto di coraggio è un atto di amore è un atto anche di grande capacità di ricerca di sviluppo narrativo è molto molto simpatica la scelta anche dei nomi noi abbiamo Pir una sorta di investigatore privato che in Pir in francese significa peggio oppure un caporale che si chiama Puc che significa pidocchio e questo ci fa anche sorridere per la leggerezza i toni alti e bassi di questo film che appunto ha tanti debiti di citazione è una scena bellissima in un cimitero di guerra che assomiglia per certi aspetti a quello di salvare il soldato Ryan ovviamente con le debiti di differenza ma è un elemento che ci si va ci si ritorna con la memoria poi oltre all'interpretazione di Audrey Totoutou che appunto è magistrale rappresenta veramente un'attrice francese la più completa possibile degli ultimi vent'anni ma anche l'interpretazione di Judy Foster nel ruolo appunto di una di un amante di uno di questi condannati a proposito parlando di Judy Foster e di questo condannato vale la pena anche citare il fatto che dalla trasposizione letteraria alla trasposizione filmica visto che il regista aveva piacere di effettuare delle riprese non solo in Bretagna non solo a Parigi ma anche in Corsica venne illustrato come uno dei cinque dei cinque condannati fosse Corso e la sua identità a Corsa emerge ciclicamente nel film come qualcosa di distintivo rispetto alla nazione francese tant'è che quando si trova nella terra di nessuno e gli dichiara candidamente di fronte ai tedeschi non mi uccidete perché io sono Corso non sono francese ebbene questa frase questa nuova identità a questo personaggio ha creato notevoli problemi in Corsica perché in realtà la Corsica aveva un orgoglio essenzialmente francese pienamente francese nell'aver contribuito allo sforzo della prima guerra mondiale quindi in Corsica è stato boicottato questo film perché dava un'impressione che la Corsica fosse qualcosa di diverso rispetto alla Francia quindi anche questo è un elemento interessante di analisi e di rappresentazione delle varie identità all'interno della nazione francese quindi secondo me è un film che se non l'avete visto vale la pena vederlo perché ha dei piani di interpretazione molto diversi che arricchiscono la storia che arricchiscono tutto il vissuto che ci può essere dietro a un conflitto un conflitto che ha mille sfaccettature e poi ripeto dentro a un discorso come quello della cultura francese che veramente è intriso intriso di mille elementi ripeto la Parigi la Parigi del 1920 che probabilmente anche un po' possiamo retrodatarla sono veramente elementi di belle epoche in cui c'è un clima la villumiera quindi questo è dei vari film che abbiamo descritto abbiamo affrontato anche il tema di Parigi che secondo me è essenziale essenziale per comprendere sia il ruolo di Parigi come città oggetto di guerre oggetto di passaggio di guerre nell'epoca contemporanea ma anche come centro di cultura di pensiero di analisi del militarismo o anche dell'antimilitarismo se avremo se avremo modo ovviamente non è un film bellico in senso stretto ma appunto un film dell'anno scorso sulla sull'affaire Dreyfus il l'ufficiale e la spia rappresenta anche in quel caso una Parigi inedita una Parigi veramente di nostalgia di analisi anche antropologica quindi questo è un elemento che arricchisce secondo me è uno dei valori aggiunti di questo film oltre ovviamente una serie di ambientazioni veramente bellissime di agresti di campagna di bucoliche di riva al mare chiudo facendo un elogio alle musiche di Angelo Badalamenti che per molti può sembrare un nome come un altro un nome di mafioso in realtà è un grandissimo è ancora vivo è un grandissimo compositore che per esempio ha scritto le musiche per Twin Peaks sia nell'edizione quella di 30 anni fa sia quella più recente quindi anche da un senso di partecipazione di analisi di accompagnamento musicale che rende il film ancora più convolgente ancora più frizzante per certi aspetti quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione che avete rivolto ancora una volta a un mio video vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale e alla prossima ciao